Benvenuti su Gossip Mania TV. Amadeis racconta tutto da Diletta Leotta su Giovanna Civitillo e la Rai, sono focoso. Prima di proseguire, se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità, ti chiediamo gentilmente di iscriverti al canale ed attivare la campanellina. Amadeis ha recentemente svelato un aspetto inedito della sua vita privata durante un'intervista al podcast di Diletta Leotta, mamma dilettante. Il conduttore, da poco approdato al 9, si è raccontato insieme alla moglie Giovanna Civitillo. Durante la conversazione, la coppia ha affrontato il tema della gelosia. Siamo sempre stati gelosi, ha dichiarato Giovanna, io sono una gelosa razionale, lui è completamente irrazionale. Nessuno mi poteva neanche salutare, ma ora è migliorato tantissimo. Amadeis ha confermato, io sono focoso, a volte mi dimentico che sono Amadeus, potrei essere chiunque. Forse più all'inizio c'è stata gelosia. Devo dire che ora, essendo una coppia consolidata, c'è rispetto da parte di tutti. All'inizio, quando non si sapeva e qualcuno faceva magari un po' il provolone. Mi ricordo una volta in macchina. Uno ha fatto un apprezzamento a Giovanna e io ho fatto una cosa veramente terribile da Starsky e Hatch, ho accelerato, sgommato e gli ho tagliato la strada. Sono sceso dalla macchina come a dire adesso ti gonfio. Giovanna urlava no no no. E, a un certo punto, questo è sceso che non aveva capito e mi fa o ama ciao. E mi ha disarmato. Cioè, a quel punto con questo sorriso è stato carinissimo e io gli ho detto ciao e lui facciamo una foto? Parliamo di vent'anni fa. Amadeis ha ufficialmente detto addio alla RAI il 10 maggio scorso, durante una puntata di Viva RAI 2 di Fiorello. Il suo addio agli studi che l'hanno visto crescere artisticamente è stato emozionante nonostante l'assenza dei dirigenti RAI. Il presentatore era circondato da amici e familiari, inclusa Giovanna Civitillo, sua moglie, che lo ha sempre supportato durante il suo percorso alla RAI. Mentre il futuro di Amadeus sul 9 è certo, restano dubbi sulle sorti di Giovanna Civitillo. Cosa farà l'ex ballerina? Seguirà suo marito sul 9 o rimarrà sulla rete ammiraglia RAI? Secondo le voci riportate da chi, Amadeus non ha influenzato nessuno affinché la Discovery garantisse a Giovanna un posto al suo fianco. Al momento, sembra che la Discovery non abbia intenzione di mettere sotto contratto alcuna conduttrice. Giovanna Civitillo è una presenza fissa nel programma È sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici, dove cura la rubrica Gira e va dedicata alle sagre culinarie italiane. La carriera di Giovanna nella RAI è iniziata negli anni 90 e ha avuto un grande successo con programmi come Fantastica Italiana, Carramba. Che sorpresa, e Domenica in è stata anche inviata ufficiale per la vita in diretta durante la conduzione di San Remo da parte del marito. Antonella Clerici sembra spingere affinché Giovanna Civitillo resti nel programma anche nella prossima edizione. Tuttavia, la sua partecipazione non è ancora confermata, poiché sta ancora aspettando una risposta dalla RAI, che non ha ancora rinnovato il contratto per la prossima stagione. Resta da vedere quali saranno le scelte di Giovanna Civitillo, continuerà in RAI o seguirà le orme di Amadeus. Bisognerà attendere ulteriori sviluppi per saperne di più sul suo futuro professionale. Lascia un commento alla fine del video e seguici per gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. A presto con un nuovo video. Ci vediamo al prossimo Gossip.